E sappiamo tutti che ormai il processo civile telematico entrerà a far parte integralmente nei nostri studi dal 30 giugno 2014. Questo però non deve spaventare, non deve assolutamente mettere ansia né terrore in tutti noi. Perché? Perché per quanto riguarda il 30 giugno 2014 è solo una data dove sarà purtroppo obbligatorio per noi tutti dotarci degli strumenti telematici e per quanto riguarda i depositi telematici. Depositi telematici di alcuni atti, non di tutti gli atti, ovvero il processo resterà come quello di ora, il cartaceo non verrà abbandonato, ma l'unica incombenza, l'unica obbligatorietà l'avrà il deposito degli atti endoprocessuali, cioè quelli in corso di causa, 183, 190, dopo vedremo l'illustrazione del relatore, le memorie del CTU e le istanze di parte da proporre al magistrato. Diciamo che dopo la fase di sperimentazione partita a gennaio del 2013, conclusa sibilantemente nel maggio del 2013, il Ministero ha imposto queste regole, già con tanti decreti ministeriali, anzi siamo stati proprio mitragliati da questi decreti ministeriali, che hanno un po' imposto tutte le regole tecniche da seguire nel momento in cui andiamo a depositare un atto. L'atto non può essere depositato oltre alle 14 del giorno di scadenza, giorno naturale di scadenza. L'atto deve essere depositato secondo alcune norme, secondo alcune regole. il pdf non deve essere scadenizzato, quindi non deve essere un file immagine, insomma ci siamo detti tante cose nei vari incontri. Dopo saranno i relatori ad esporre dettagliatamente le regole tecniche. Voglio partire con dei saluti, innanzitutto ringrazio tutti i magistrati che stanno collaborando con noi ordine degli avvocati in questa fase di sperimentazione, ma non è più fase di sperimentazione, di questo processo civile telematico. Ringrazio altresì i funzionari di cancelleria presenti, la dottorissa Forte e la dottorissa Accardo, che con loro abbiamo instaurato una vera e propria collaborazione già dalla fase di sperimentazione, quindi dal giugno gennaio 2013. Grazie a loro, devo essere sincero, come Commissione Informatica, abbiamo svelato alcune arcane che si proponevano con questo processo civile, anzi queste regole del processo civile telematico, che andavano a fare in noi stessi dei dubbi, a dare dei dubbi in noi stessi e stesso con loro noi siamo riusciti a scopare questi dubbi e cercare appunto delle risoluzioni. Tanto è vero che poi nel maggio 2013 si è potuto divenire al deposito degli atti stessi. Il titolo del secondo modulo oggi è il deposito telematico degli atti. dicevo che è possibile depositare già dal maggio 2013 e tutti gli avvocati dovranno essere dotati degli strumenti telematici ormai, come dire, divenuti obbligatori. Per ora sono indispensabili, ma per alcuni versi sono obbligatori. Per quale motivo? Allora, sappiamo che ormai la PEC è divenuto l'unico modo con il quale si può conversare con le cancellerie. Lasciatemi il termine, fatemelo passare. Che significa conversare con le cancellerie? Noi dobbiamo essere dotati di posta elettronica certificata già da qualche tempo, ormai la scadenza è quasi, siamo ad un anno ormai, perché? Perché noi nel momento in cui abbiamo delle cause pendenze presso il nostro tribunale, l'unico modo per ricevere le comunicazioni di cancellerie sarà la PEC, posta elettronica certificata comunicata all'ordine. Cosa significa comunicata all'ordine? Noi dobbiamo innanzitutto verificare che la posta elettronica certificata, ovvero il nostro indirizzo sia lo stesso che compare all'interno dell'albo avvocati dove siamo iscritti. Se così non fosse, ovvero la posta elettronica certificata comunicata all'ordine, differente da quella che mettiamo negli atti, purtroppo dobbiamo aggiornare il sistema, ovvero la posta elettronica certificata che abbiamo comunicato all'ordine. Come possiamo farlo? Attraverso un modulo che si chiama modulo aggiornamento dati albo avvocati, lo stampiamo, lo firmiamo e lo consegniamo allo sportello in modo che l'ordine, con cadenza mensile, comunica al Regin, del Registro in generale degli indirizzi posta elettronica certificata, comunica i nostri aggiornamenti in modo così da ricevere le comunicazioni di cancelleria. Come dico in ogni corso, è inutile recarsi presso le cancellerie e chiedere l'aggiornamento stesso perché purtroppo non è possibile, ovvero i funzionari di cancelleria, gli addetti di cancelleria, non sono in grado di modificare questo dato ormai divenuto importante. Un altro elemento essenziale per l'avvocato, all'interno di noi spero abbiano ricevuto il vademecum dell'avvocato telematico, quindi molti di questi colleghi, ovvero l'avvocato telematico, deve essere dotato anche della firma digitale, che è un sistema di autenticazione per accedere ai registri di cancelleria, ma resta comunque l'unico strumento con il quale vengono firmati gli atti, cioè vengono sottoscritti non più con la penna, ma con la firma digitale, che è dotato di business key a quello strumento che viene rilasciato all'ordine degli avvocati dall'Alex, ma noi possiamo tranquillamente stipulare un contratto con qualsiasi ente certificatore, InfoCert, ripeto InfoCert, che accerti che all'interno della firma vi siano i nostri certificati, ovvero il nostro codice fiscale. Quindi questo è il secondo elemento essenziale perché l'avvocato telematico possa accedere agli strumenti telematici che impone il Ministero. Il terzo elemento importante invece è un redattore atti. In commercio ce ne sono tantissimi, abbiamo noi ordine qualche anno fa, l'ordine ha stipulato convenzione con l'Extel, vi è qui presente la Team System con l'ISI telematico, un sistema molto valido, vi è un altro sistema che è un altro redattore atti che è SLPCT Firenze, possiamo aderire alla convenzione stipulata dall'ordine degli avvocati qualche settimana fa con l'area di PCT attraverso il software di Alex Pro, c'è la Giuffre, insomma io lascio a voi stessi la libera scelta del redattore atti da adoperare. Logicamente ogni redattore ha le sue difficoltà per entrarci, ha le sue difficoltà per aprirlo, per depositare, mentre invece ci sono sicuramente redattori un po' diversi dagli altri, sono più semplici da adoperare però logicamente hanno delle difficoltà diverse uno dall'altra. Io consiglio a chi è alle prime armi con l'informatica in genere comunque di farsi assistere da una software house, la software house non è altro che un partner che noi possiamo scegliere tra quelli che ho citato in commercio che potranno tranquillamente venire presso il nostro studio ed aiutare almeno per le fasi preliminari, per questa fase preliminare, aiutare tutti i colleghi a redigere, ovvero a scaricare il programma, a redigere la bussa telematica e quindi ad inviarla presso il tribunale di riferimento. Non tutte le società logicamente fanno assistenza presso lo studio, vi cito la SLPCT per esempio che è quella di Firenze, logicamente non verrà un tecnico da Firenze ad installarci il software sul nostro computer, ma avrà solo un'assistenza telefonica. Ci sarà anche la Redi PCT che è il software che abbiamo stipulato, la cui società ha stipulato Convenzione con l'Ordine, Alex Pro che ha anche assistenza telefonica, vi è l'ulteriore società che gestisce il software di Easy Telematico qui presente, che il dottore Nappi che saluto e ringrazio per l'immensa collaborazione che ci sta dando, almeno in questa fase preliminare, prodromica, all'entrata in vigore di questo processo civile telematico, che ha una società che verrà presso il nostro studio. La LexTel, un'ulteriore società, ha anche un'assistenza telefonica, però ha anche le sue difficoltà. io consiglio sempre a tutti quanti comunque di sollecitare almeno una spiegazione da parte di un proprio tecnico informatico. Chi invece, logicamente, spero nessuno di noi, spero tutti voi, siate ben al corrente delle norme sul PCT, ben al corrente di come effettuare un deposito telematico, a questo punto non dovremmo avere bisogno di alcuna assistenza. Detto questo, quindi fatto questa rapidissima premessa, oggi tratteremo, il collega Scinto ci darà una rapida carrellata su tutte le norme attuative del processo civile telematico. Ho parlato prima di alcune norme che impongono le regole tecniche. Vi ho detto che per esempio l'atto nel momento in cui viene steso, noi possiamo scegliere un formato Word, un formato Open Office, Libre Office, non so quale sistema di scrittura lo periate. Una volta steso questo atto, noi dobbiamo trasformarlo in PDF. Mi raccomando, non va stampato. L'atto non va stampato e scandalizzato, ma va sempre trasformato in PDF. Perché? Perché comunque vi sono delle regole imposte dal Ministero, molto rigide e molto rigorose, che fanno sì che l'atto passi ai controlli automatici. Quindi simuliamo per esempio un esempio di deposito atto. Nel momento in cui andiamo a redigere una memoria ai sensi del 183 Sesto Comma, trasformiamo l'atto in PDF, la trasformazione possiamo effettuarla con il PDF Creator oppure se si è dotati di sistemi di ultima generazione, quindi da Windows 2007 in poi, può essere salvato direttamente come PDF oppure con una stampante virtuale a tendina va fatta la stampa PDF. Quindi è importante che l'atto non venga stampato e scandalizzato. Una volta fatto questo, possiamo, anzi dobbiamo, dobbiamo firmare l'atto, aprire il redattore atti della società che andiamo a scegliere liberamente, senza che nessuno ce lo imponga, e mi raccomando che questo deve essere sempre, e l'atto viene trasmesso al Tribunale di riferimento. Se non si sono seguite purtroppo queste regole tecniche rigide, rigorosa, dico, non si supera l'esito del controllo automatico da parte del sistema ministeriale. E l'atto viene, quindi, naturalmente si riceve un primissimo messaggio nel quale l'atto non viene depositato e si è costretti a fare delle corse per rifare l'atto, per, come dire, riconfezionare la busta telemate e quindi per questo io ogni corso dico che ridursi all'ultimo momento, ovvero alle ore 13.55 per effettuare un deposito, non è sempre una giusta scelta. Solitamente le scadenze, noi tutti avvocati siamo abituati ormai a lavorare con le scadenze, le scadenze vengono considerate, almeno per quanto mi riguarda il sottoscritto, io considero sempre la data di scadenza almeno due giorni prima, non più il giorno stesso di scadenza. Entro le ore 14 l'atto deve raggiungere la cancelleria e deve assolutamente superare il controllo dell'esito automatico e poi, vabbè, la successiva accettazione del cancelliere che non è altro che è il quarto messaggio che noi riceveremo attraverso la nostra posta elettronica certificata. Dunque, due settimane fa volevo dire un'ultima cosa, non mi rubo più tempo, volevo dire che comunque questi corsi vengono videoripresi dalla, a questo punto ringrazio il collega Giovanni Copertino della Road TV Italia, che attraverso, dicevo appunto che questi corsi vengono videoripresi dalla Road TV Italia e vengono inseriti all'interno del sito della Road TV Italia.it, quindi chiunque volesse oppure non potesse partecipare all'intero corso può seguirli dal sito stesso. Infatti ringrazio il collega Copertino che, come dire, ha immediatamente colto l'importanza anche di una videoproiezione per dare possibilità a chi purtroppo oggi o l'altra volta non è potuto essere presente di seguirlo direttamente da casa. All'interno del sito dell'ordine che stiamo un po' rinnovando, anzi, vabbè, abbiamo preso un nuovo dominio, quindi è il rifacimento, quindi siamo in progress per quanto riguarda il nuovo sito, verrà prevista addirittura una sezione di e-learning per chi è addetto alla materia e per chi non è addetto alla materia, l'e-learning non è altro che una videoripresa portata sul web attraverso una telecamera. Stiamo lavorando anche per avere uno streaming, infatti il collega ci sta prevedendo per le prossime lezioni anche uno streaming, quindi in diretta proprio dallo studio legale.